cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo festa della repubblica tempo buono ma atmosfera a tratti instabile sul nostro territorio vediamo il dettaglio dunque di venerdì 2 giugno sul veneto sarà soleggiato ovunque nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento assisteremo nelle ore più calde allo sviluppo di locali rovesci o temporali specialmente in prossimità dei rilievi temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi massime tra i 26 e i 29 all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche qui tanto sole inizialmente maggiore nuvolosità sulle alpi e sulle prealpi dove già dalla tarda mattinata saranno probabili rovesci o temporali a carattere sparso temperature minime sui 17 e 18 gradi massime intorno ai 26 28 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adice dove avremo condizioni non del tutto stabili come ci mostra la grafica sole al mattino a seguire fenomeni temporaleschi temperature minime intorno ai 16 17 gradi massime sui 27 29 gradi all'incirca dal meteo è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago pieve del grappa tre baseleghe